La riabilitazione è un settore sicuramente molto importante nel percorso sanitario. Abbiamo diverse forme di riabilitazione, quando parliamo di riabilitazione dobbiamo capirci un pochino. Parliamo di riabilitazione codice 75, parliamo di riabilitazione codice 56, parliamo di riabilitazione ex articolo 26, domiciliare, ambulatoriale, residenziale. Quindi è un argomento molto ampio in cui sicuramente dobbiamo cercare di migliorare anche i livelli di appropriatezza. Siamo convinti nella struttura commissariale che ci sono livelli molto alti di miglioramento della appropriatezza e a volte si fanno sotto il versante riabilitativo delle prestazioni che in realtà non sono riabilitative. Quindi c'è da recuperare molto sotto il versante della privatezza e migliorare molto anche sotto i percorsi. Grazie a tutti!